Sono Antonio Camprese, cotitolare della carrozzeria Camprese, Giacomo Antonio, SNC, che si trova a Giulianova. La nostra attività va avanti ben da quattro generazioni, infatti già dal lontano 1890, quando erano in auge ancora le carrozze, il mio bisnonno si occupava delle riparazioni delle stesse. Poi con l'avvento dell'auto, i figli, i nipoti e mio padre abbiamo consolidato questa tradizione per ben tre secoli fino ad oggi. Oggi nella nostra attività, oltre a fare riparazione di carrozzeria per le macchine moderne e ad avere le migliori convenzioni con le migliori assicurazioni, ci occupiamo del restauro delle macchine d'epoca. Questo restauro lo facciamo sia esteriormente, cioè curando l'esterno, cioè la carrozzeria, che l'interno della vettura, cioè anche facendo lavori di tappezzeria. Oltre questo forniamo molti altri servizi. Nel salutarvi vi invito a venirci a trovare nella nostra struttura, che si trova a Giulianova, via zona industriale numero 8, colleraresco.